buongiorno sono venuto a fare degli esami con l'impegnativa del mio medico faccia vedere un momento che cerco nella busta porca malora vuoi vedere che lo lasciate a casa senza documenti non può fare niente un momento che cerco nella tasca del giubbotto con tutta questa roba sono cose necessarie sì lo so però non mi metta l'agitazione perché sono anche un po esaurito ma qui non facciamo visite neurologiche lo so bene che devo fare la rettoscopia mica all'esaurimento e allora va bene mica tanto